E' tutto pronto per la seconda edizione del SIA Forum Città di Palmi. A partire da domenica 22 maggio, presso l'area dei puntili del porto di Taureana di Palmi, avrà inizio la rassegna organizzata dal Comune, in collaborazione con la provincia di Reggio Calabria, l'autorità portuale di Gioia Tauro, la capitaneria di Porto di Gioia Tauro e la delegazione di spiaggia di Palmi. Tra gli organizzatori il consigliere comunale Antonio Papalia, che ha ricordato come la manifestazione già realizzata nel 2015 mira ad esaltare unitariamente alcuni comparti che hanno la capacità di valorizzare il territorio, in particolare la tutela delle bellezze paesaggistiche e naturali, coniugata con le opportunità che discendono dalla presenza in Palmi di un porto turistico, una struttura questa che negli ultimi anni, grazie alla rafforzata sinergia istituzionale con l'autorità portuale di Gioia Tauro e con la guardia costiera, ha certamente influito positivamente sulla crescita e sullo sviluppo della tonnara di Palmi di tutta la città. Il vice sindaco di Palmi, Giuseppe Saletta, ha posto l'attenzione sulla nautica da di Porto, un settore che, nonostante la crisi economica, continua a costituire un volano di sviluppo per le aree costiere. Ebbene, la valorizzazione della costa viola e del nostro patrimonio naturalistico ben si integra con la volontà condivisa di promuovere il porto di Palmi, che ormai da anni vede occupati a pieno regime circa 400 posti barca. L'infrastruttura portuale necessita tuttavia di essere oggetto di un ulteriore sforzo culturale che lo renda familiare ai nostri giovani e ai nostri studenti. Abbiamo immaginato, dice Saletta, in questo senso e con questa prospettiva tutte le iniziative che, a partire da domenica prossima, contribuiranno alla riuscita del SEA Forum. Alle 18.30 del 22 maggio, appuntamento con la tavola rotonda sul tema nautica da di Porto, promozione turistica e strategie di sviluppo. Introdurranno i lavori il sindaco di Palmi, Giovanni Barone, il vice sindaco assessore al marketing territoriale e alla tutela delle coste, Giuseppe Saletta, e il consigliere Antonio Papalia. Sono inoltre previsti gli interventi del consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, del presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa e del vice presidente della provincia Giovanni Verducci. Le conclusioni saranno riservate al capitano Davide Barba Giovanni Minciullo, comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, e di Andrea Agostinelli, presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro.